Pone, che cos'hai lì? Chris, ho portato delle aragoste per cena Forte! Posso... posso ucciderle? Mmm, fammici pensare Ma certamente che puoi ucciderle Eh, vai! Dai, facciamo bollire l'acqua Una consegna per Peter Griffin Eh, ma non ho ordinato nulla Sì, insomma, avrei potuto se avessi voluto Ho una nuova carta di credito Ehi, grande! Incontro un sacco di gente fica oggi Basta, così mi fai male! No, è solo l'aria che esce Non sentono niente in realtà